Per due anni consecutivi le barche sono rimaste in porto. Ora le vele sono di nuovo pronte a dissarsi per unire le due sponde dell'Adriatico. Torna la regata Pesaro-Pola, torna la regata velica d'altura sulla rotta dei Trabaccoli e torna con la 36esima edizione, la più rimandata e anche per questo una delle più importanti per la Lega Navale di Pesaro. Questa è una partenza molto importante che dopo due anni di riposo forzato ci ha creato uno sforzo superiore al normale per ripartire. Non dico che è come ripartire da zero ma quasi. Comunque speriamo che tutto giri secondo quello che prevediamo. Abbiamo le prenotazioni di imbarcazioni perché la sostanza di questa manifestazione sono le barche. Abbiamo attualmente una trentina di prenotazioni. Siamo soddisfatti perché questo ci fa prevedere un qualcosa intorno a 50-55 imbarcazioni. Diciamo 50 imbarcazioni. Il cronoprogramma della regata prevede la prima manche il 4 maggio da Pola a Pesaro con l'arrivo nelle marche delle barche croate. Momento clou sarà la seconda manche in quanto la più nutrita dal punto di vista delle imbarcazioni presenti che dal porto di Pesaro salperanno venerdì 6 maggio alle 16 con la seconda manche. Tappa conclusiva sarà la terza manche Pola-Pesaro lunedì 9 maggio prima della premiazione del 14 maggio alla Lega Navale. Ennesima sottolineatura ad una lunga storia di sport ma soprattutto di amicizia e fratellanza tra le due sponde dell'Adriatico. Grossa amicizia prima andavamo a Rovigno purtroppo adesso per questioni logistiche Rovigno c'è praticamente interdetto speriamo di poter in futuro vedere di ritornarci a Rovigno perché Rovigno c'è rimasto nel nostro ma comunque anche andando a Pola non è che sia riduttivo Rovigno c'è rimasto con la domenica Rovigno c'è rimasto con la domenica